Benvenuti ragazzi e benvenuti qua sempre dal pazzo del tubo ragazzi oggi video di FIFA Mobile ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti se mi piace questa tipologia di video che me ne porto altri quindi io vi lascio al video di FIFA Mobile andiamo dentro con FIFA Mobile Siamo qua ragazzi sulla prima partita di sfido attacco dura un minuto e mezzo ragazzi c'ho una squadra non è che gioco tanto ragazzi ci ho fatto un po' i primi giorni sì un po' tanto ma adesso ragazzi no vai partiamo subito Manzuki c'è andiamo vediamo che cazzo riesco a fare Attenzione vai Neymar il portiere ma che parata del portiere C'è golle 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 Attenzione Brant Neymar deviazione calcio d'angolo Attenzione no no quel cazzo di colpo di testo che magari potevo tirare al volo Oh punizione attenzione E golle 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 E golle 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 Attenzione le schede di Neymar Tira parata del portiere 2 a 1 Neymar con i suoi giochetti Tira non si capisce più un cazzo Vabbè questo è gol E golle 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 E golle golle Ragazzi però non devo perdere Con questo qua E gol E gol E gol E gol Neymar apre Nooo Sbagliato dio Tempo scaduto E ragazzi andiamo a vincere E noi ci vediamo qua Con la seconda partita Di oggi Di oggi Ragazzi La mia squadra E' un po' più forte Dalla sua Ma ragazzi Non dobbiamo sottovalutare L'avversario Perché ce la potrebbe mettere In quel posto E ragazzi fatemi sapere Se vi piace questa tipologia di video E nulla Partiamo Neymar Attenzione Manzukic Potrebbe tirare Tira Ma vaffanculo Era ancora in gioco Pensavo che era calcio d'angolo Porca puttana Pensavo che era persa Con la palla lì Aspetta A 2 a 0 Già Già mi ha fatto 2 a 0 E vaffanculo Eh Pura è forte Finchia 3 E 1 Ma no Ma lei Ma cazzo Ma Vabbè ragazzi Ho perso Questo l'ho perso 4 a 0 E 1 E la madonna E chi cazzo è E 2 Ragazzi sarebbe epica La Rimonta 6 a 3 Dai 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 E la rimonta E la rimonta Oh ragazzi Dio povero Nooo ragazzi Che rimonta Che ho fatto Siamo in parità Io ho un po' più di intesa Ma ragazzi Non è sottovalutare Ragazzi L'ho persa prima Perché Mi stavo più al video Sinceramente Che alla partita Quindi Ah fatemi sapere Se Vi piace di più Questo tipo di video Non me la porto Vai Vai ragazzi Poi oggi Non so se Farò uscire un video Sul maestro donato inglese Ma che golle Ma che golle Sul maestro donato inglese Quindi ragazzi Restate sintonizzati Sul canale Poi ragazzi Ovviamente Noi Domani Non so perché ragazzi Domani c'ho un bordello da fare Domani Ci da E no Ragazzi domani Sono 15 ore fuori casa No no Non posso Non posso portarvi video Ma Poi ragazzi Venerdì ovviamente Tutti sul canale A vedere Le live reaction Della partita Il derby d'Italia Juventus Poi ragazzi Lo so che Queste tipologie Di video A me vanno male No Che vanno più Le live reaction Io rifaccio Perché Mi piace Porco Diggle Palo Porco Diggle cosa devo vincere si vai tirata li iscrivetevi qua dal pazzo del top è tutto presto ragazzi